Ad un anno dalla scomparsa di Cassandra Melela Cicli-Scotto con il patrocinio del Comune di Ischia, organizza il primo Memorial. Vediamo un po' con l'organizzatore di che cosa si tratta. Beh, diciamo che questa è una manifestazione gara riservata a bambini da 7 a 12 anni. Vogliamo partire dal basso, dall'inizio, dai bambini per ricordare Cassandra. Cassandra che in effetti era una persona a dir poco speciale che piaceva tanto la bici. Era tifosissima della bicicletta, le piaceva tanto e dedicava molto del suo tempo perché lei era un militare come tutti sappiamo e quindi il suo tempo libero lo dedicava alla bicicletta. Quindi quest'anno è il primo anno. Speriamo di crescere negli anni e di continuare nel suo nome. Ecco, questo evento nasce anche soprattutto per sensibilizzare questi eventi, questa situazione affinché non capiti né più, anche se è notizia di qualche giorno fa ci siamo ritrovati davanti all'ennesima tragedia della strada. Sì, purtroppo sì. Noi siamo nei paraggi qua. Noi cerchiamo innanzitutto di dedicarci ai bambini, a dare anche un'educazione stradale, un'educazione di come si va sulle due ruote. Sperando che riusciamo a trasmettere qualche modo di stare in mezzo alla strada. Questo è un progetto diciamo nato tre anni fa con la scuola di ciclismo e lo stiamo portando avanti quest'anno, il primo anno che facciamo questa gara. Speriamo di continuare. Bene, vogliamo spiegare nel dettaglio le modalità di partecipazione? Sì, questa in effetti è una gara federale a tutti gli effetti. Possono venire da tutta Italia. Noi della Campania abbiamo 150 giovanissimi tesserati come federazione. Per ora abbiamo 60 iscritti. Speriamo che fino a sabato cresca il numero di partecipanti. Vengono da tutta la Campania, sono squadre abbastanza attrezzate e speriamo che i bambini si divertano alla prima cosa. Lei è noto ai più come ex agente della Polizia Municipale. Vogliamo lanciare un messaggio a tutti coloro che si mettono in strada? Sì, soprattutto è la velocità. Oggi come oggi è la velocità quella che ammazza, quella che non fa ragionare e quella che fa succedere i morti. Quindi se riusciamo a contenere le velocità si risolveranno tanti problemi. Poi chiaramente ci vorrebbe un poco di sorveglianza in più perché quello non guasta mai.